buonasera amici e benvenuti nel canale allevamento amatoriale di raffaello esposito purtroppo vi devo una brutta notizia ragazzi reggio è stata cancellata così come zebras vi leggiamo quindi il comunicato che è uscito poco tempo poche ore fa da parte della sorra società ornitologica reggiana carissimi amici allevatori ed operatori commerciali stiamo vivendo un periodo critico particolarmente lungo che minaccia non solo le nostre attività sociali e sportive ma addirittura la nostra salute e la nostra vita eravamo abituati all'aviaria alla sua costante minaccia e ai danni gravi che produceva alle nostre manifestazioni abbiamo imparato a conviverci e a continuare la nostra vita sociale sportiva con molti disagi e qualche danno ma alla fine avevamo trovato un equilibrio soddisfacente con qualche scomodo compromesso che ci ha consentito di proseguire nella nostra attività sportiva e sociali di socializzazione abbiamo perso qualche piuma scusate qualche piumetta roba di poco conto rispetto al prezzo che rischiamo di dover pagare oggi di fronte a una nuova minaccia sanitaria che non attacca i volatili ma l'uomo stesso è nota a tutti la estrema pericolosità del nuovo virus con cui l'umanità oggi deve fare i conti e nei confronti del quale non ha allo stato attuale armi farmacologiche efficaci ci restano solo prudenza vigilanza ed uno stile di vita profondamente diverso da quello che vorremmo e da cui siamo abituati isolamento sociale il distanziamento fra le persone è un modo di vita semplicemente opposto a quello a cui siamo abituati poiché costituisce la socialità il modello di vita cui siamo stati allevati rappresenta la natura stessa dell'uomo la minaccia reale e mortale per l'uomo come mostrano i dati che provengono da ogni parte del mondo con regolarità allarmante soprattutto negli ambienti in cui non si praticano regole rigide di prudenza e distanziamento le nostre manifestazioni sono esattamente l'opposto dell'eserramento sociale quindi non costituiscono un esempio di prudenza e comportamento nei confronti della minaccia virale anzi possono rappresentare dei momenti di reale diffuso contagio per tutti gli operatori ovviamente il maggior pericolo lo incontriamo nelle manifestazioni che richiamano molti visitatori in particolare provenienti da ogni parte del mondo le manifestazioni sor rientrano in questo ambito consapevoli di questo il gruppo dirigente sor e la base sociale dopo aver valutato molte possibili soluzioni riduttive ed alternative al modello di mostra direzionale dopo avere attesa in vano che il tempo eliminasse o riducesse la minaccia covid 19 giunti al limite massimo oltre il quale per motivi organizzativi non è possibile attendere assunto una decisione si tratta di una decisione assai dolorosa perché rappresenta una sconfitta di fronte a questa subito la ma grave e reale minaccia sanitaria mortale per gli esseri umani le manifestazioni ornitologiche denominate zebras e ondulati di forma e posizione prevista nel mese di settembre 2020 e la mostra ornitologica internazionale sor prevista nel mese di novembre 2020 sono cancellate per le manifestazioni previste in dicembre e ai primi di gennaio 2021 verranno verificate le condizioni entro il mese di ottobre siamo veramente dispiaciuti per queste cancellazioni è la seconda volta negli anni 82 di vita delle attività della nostra società che condizioni esterne portano alla cancellazione delle nostre mostre negli anni 1943 e 1944 la guerra impose uno stop ma ancora nel 1942 e nel 1945 ancora con il rambo dei cannoni i soci sorri riuscirono a realizzare il loro evento sollevando lo spirito degli appassionati nel pieno di tribolazioni drammatiche ci piace in proposito allegare un documento davvero storico il firmato dell'evento sor del 1942 durante gli anni 78 dunque anni 78 in piena seconda guerra mondiale i soci sorri ed il consiglio direttivo sono veramente dispiaciuti per questa dolorosa decisione ma in queste condizioni occorrono prudenza e ragionevolezza occorre privilegiare la sicurezza e la vita delle persone d'altra parte organizzare una mostra con i limiti e i vingoli posti dalle misure anti covid non è fattibile per gli organizzatori e non è un piacere per gli appassionati ragazzi purtroppo questo il comunicato quest'anno dovremmo fare almeno di reggio emilia io purtroppo sono addolorato perché reggio per me rappresentava diciamo la manifestazione più importante dell'anno noi l'attendiamo con ansia e leggere queste parole feriscono per due ragioni uno perché veramente siamo impotenti di fronte a questa minaccia e i due perché si toglie un momento di aggregazione un momento di dove noi allevatori ci spassiamo per qualche giorno nel nostro mondo sono addolorato e purtroppo brutta comunicazione speriamo le cose si aggiustino io continuerò i miei video continuerò con i miei animali perché d'altronde la vita continua ma vi dico siate prudenti anche perché ultimamente le persone stanno un po hanno un po mollato la presa e subito si stanno vedendo nuovi casi quindi vi chiedo prudenza usate mascherie distanziamoci cerchiamo di eliminare questo brutto virus e di di riuscirne più forti l'anno prossimo dai speriamo anche che molti allevatori si riscrivono alle loro associazioni anche perché vivere la vita di un'associazione momento di aggregazione si è giusto che di riuscirne più forti l'anno prossimo dai